1964 anzi since 1964 55 anni di tradizione made in usa la pony car dei sogni e per noi che portiamo la passione nel nome e in quello che facciamo era arrivato il momento di provare un'auto così emozionale ed eccola qui for mustang gt fastback sotto il cofano il 5 litri vuoto da 450 cavalli e 524 newton metri di coppia un motore con un sound e una grinta pazzeschi che non passano di certo inosservati ma d'altrone come una mustang può passare inosservata saremo qui a parlarne e a guardarla per ore con il suo cavallo argenteo sul muso e invece no vogliamo farvi sentire la sua grinta vogliamo farvi provare tutto il suo sound e tutto il suo spirito selvaggio e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.